LUNEDÌ DELLA TRENTESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva in ferma da diciotto anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei, e subito quella si raddrizzò, e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla, Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare. In quelli, dunque, venite a farvi guarire, e non in giorno di sabato. Il Signore li replicò. Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco È un miracolo strano quello raccontato nel Vangelo di oggi. È paradossale credere che, solitamente, siamo abituati a pensare che cercare è una prerogativa nostra verso Dio. Fa un certo effetto, invece, sapere che sia invece Dio a cercarci, ad accorgersi della nostra sofferenza, della nostra incapacità ad alzare lo sguardo. Era curva, e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Dovremmo quasi dire che la vera preghiera ha inizio con Dio che si rivolge a noi e non il contrario. Noi possiamo perdere anche la capacità di pregare, di desiderare, di sperare, ma è Lui stesso che ci viene a cercare lì dove siamo. Impose le mani su di lei, e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. La malattia di cui è afflitta questa donna le permette di guardare solo a terra. Ella rappresenta, in maniera plastica, cos'è una paranoia, il fissarsi su qualcosa fino al punto da non riuscire più a vedere nient'altro. Chi vive così non riesce nemmeno più ad accorgersi di Dio, di Gesù, di una grazia che la circonda. Eppure, noi, da una parte, vorremmo essere liberati, ma poi, quando concretamente si presenta l'occasione, facciamo in modo di non assecondare questa liberazione. Se non abbiamo più fede per pregare, dovremmo però cercare di avere fede nell'accettare di essere esauditi anche oltre le nostre stesse aspettative. Dobbiamo, cioè, non negare l'evidenza dei fatti, volendo difendere a tutti i costi ciò di cui ci siamo convinti, e decidere se voler credere a Gesù o alle nostre paranoie. Questa donna crede a Gesù, e poco importa se tutti gli altri si innervosiscono. La preghiera più bella è quella della lode, la preghiera che nasce dall'aver riconosciuto i benefici che il Signore ha operato nella nostra storia, nonostante la nostra storia. Ma questa cosa turba sempre quel capo della sinagoga che ci portiamo dentro, e quella parte di noi che censura tutto ciò che è semplicemente gratuito, perché pensiamo di poter comprare tutto. L'amore vero è gratis, non lo si merita.